Ciao ragazzi, tutto bene? Facciamo oggi una sequenza di addominali, obliqui, dorsali e lombari. Ogni esercizio lo ripetiamo 10 volte. Zero pause. Via! Cambio. Cambio. Bene, la schiena è ancorata al suolo. Cambio. Cambio. E cambio. Mi posiziono lateralmente, addominali stretti, bacine retroversione. Lavoriamo con gli obliqui. Gambe. Insieme. Cambio. Lavoriamo. E ripeto uguale. Gambe. Insieme. Benissimo. Ora lavoriamo con i muscoli dorsali e lombari. Solleva le spalle. Ascoli. Sollevato. Ancora. venz. Inolvic. Continuo al suolo. si sentitevano inoltre. stavolta sforbiciamo cerco di mantenere la testa e mi chiamco le braccia insieme benissimo questo è un bel allenamento da fare al mattino appena svegli per caricarsi un attimo ciao ciao spero che questo video vi sia piaciuto lasciatemi tanti like e commenti